Qualcuno si preoccupa per l'uso degli oggetti dicendo, eh ma così passo dalla parte del torto, è un argomento che potrebbe inirbirvi nell'usare un oggetto per difendervi, o qualcun altro invece la fa troppo facile, cioè al contrario di quello che è inibito e dice, no oddio non voglio usare un oggetto per la difesa, passo dalla parte del torto, c'è qualcuno che invece crede che non li abbiamo sempre a disposizione, Cioè c'è qualcuno che quando si parla di difesa personale, lo avrete sentito credo, dice ma tanto io prendo una cosa e gliela do in testa, ok? Prendo un bastone e gliela do in testa, beh non è che proprio tutti i giorni abbiamo un bastone a portata, non lo so, ora ho paura a chiedere, Eugenio tu hai un bastone in macchina? No, meno male, avevo paura a chiedere perché non lo sapevo, ok? Però una pistola, meno male, è un mitra, cioè non sempre in ufficio hai un bastone al lavoro, cioè non sempre abbiamo degli oggetti a portata, ma andiamo per gradi, iniziamo a parlare con il fatto di passare dalla famigerata parte del torto, è un argomento che si sente molto speso. La nostra difesa non sarà una scelta, ok? Come facciamo, per esempio dopo alle 21 facciamo sparing con i ragazzi di Sanda, che è una kickboxing, ecco quella è la mentalità che hanno le persone nella difesa personale e credono che sia una scelta fare difesa. E pertanto si pongono mentalmente con, beh se io scelgo di prendere un bastone e darlo in testa a uno è male, ma anche se gli do una spinta a uno è male. Abbiamo un avvocato, anche se fermi uno per strada per chiedere l'ora e lui non te la vuole dire, aspetta, aspetta, dimmi l'ora, già gli sto limitando la libertà personale. Noi stiamo parlando non di una scelta, stiamo parlando di una persona che si trova costretta a difendersi, ok? È chiaro che nessun giudice, ma già l'avvocato per quanto ti difenderà a tutti i costi, ok per deontologia, però l'avvocato avviserà guarda, avevi una porta spalancata qui, te ne potevi andare, quello ti ha detto tra dieci minuti di meno, tu sei rimasto lì e ci hai fatto a botte, non è tanto difesa personale, ok? Noi dobbiamo pensare a quando sei stato costretto perché avevi una necessità di difenderti. Se io ho una necessità, la mia difesa è legittima, è chiaro che ci deve essere una proporzionalità. Ora, se io vengo aggredito da qualche persona che posso tranquillamente a mani nude, un ragazzino, faccio un esempio assurdo, scusatemi, faccio degli esempi molto forzati per capirci come concetti, se io vengo aggredito da un bambino di dieci anni che è possibile che mi dia le spinte o mi dà un gavettone, non c'è bisogno di scomodare la legge per capire che non è il caso che io usi le mani. Figuriamoci se io uso un oggetto, ok? Quello che io devo pensare è, sono in pericolo di vita, per esempio, ok? Quindi non sono nella possibilità con le mani di difendermi o fuggire, in quel caso l'uso di un oggetto mi può aiutare. D'accordo? Magari può accadere che io vada contro la mia intenzione. Certo, se l'oggetto è una pistola e l'hai ammazzato è difficile spiegare a un giudice che non volevo. Però, se sei una ragazza, faccio ancora degli esempi forzati, purtroppo non troppo forzati, di 60 kg contro un energumeno di 100 che è dentro casa, la sta malmenando e le prende una forchetta e gliela dà magari in petto per creargli quel dolore che lei sfugge, sarà abbastanza difficile che un giudice dirà che la difesa non era legittima, ok? In questo senso noi dobbiamo pensare all'uso degli oggetti. Non vado in giro con un coltello che è un'arma, vado in giro con un coltello perché se mi capita così mi difendo in maniera proporzionata. Questa è l'idea che noi dobbiamo avere. Io vedo, purtroppo, o sento, persone che vanno in giro con un'arma. Magari un'arma propria come un coltello. Magari non mi perquisisco, non ho quei dieci giro, però io sto girando armato e è un problema. Ok? Magari ce l'ho in tasca e è pure atto all'uso. Sai, se ce l'ho nello zainetto, sto andando dall'arrotino, che ce l'ho a 100 mere di casa, ce l'ho nello zainetto, avvolto in uno straccio di mestiere, faccio il fabbricatore di coltelli e sto andando all'arrotino da qui a lì, anche mi perquisisse un tutore dell'ordine, è facile spiegare che io sto andando a ruotare. Ma se io vado in giro con un coltello in tasca così, è bene che la legge sia stata scritta in maniera tale che io abbia commesso un reato. Vi torna? Ok? Quindi l'eventuale oggetto che io uso, se è una arma, come per esempio diciamo un coltello, magari ce l'ho a casa, messo da qualche parte che io so che sia in cucina, che sia in sala, dovunque, che non lo so, mi arriva qualcuno di notte dentro casa, ok posso sapere dove può essere questo coltello e si apre un altro argomento, ma non andrò mai in giro con un'arma. Chiaro? A me mette solo un problema andare in giro con un'arma, perché magari, continuiamo con gli esempi esagerati, ma così capiamo, perché ci sono esempi un po' forti perché rimangano in mente dei concetti, mettiamo capiti che io stasera esco da qui verso le 11, sto andando a casa, abito 800 meriti qui, qualcuno mi ferma e vuole il portafoglio, esito un po' a darlo perché sono un po' impaurito, mi dà uno schiaffo, mi dà due schiaffi, se io non ho il coltello, alla fine dico guarda, ecco il portafoglio, magari avendo il coltello mi viene la malaugurata idea di darlo fuori e difendermici, ok? Come? È molto probabile. Se ce l'ho allora che me l'ero portato a fare questo coltello? Si dà il caso che per evitare un furto che è una cosa materiale, tu non puoi fare del male all'altro perché ringraziando Dio la salute nostra o anche la libertà valgono molto di più dei beni materiali, cioè non solo per la nostra morale, oh Dio, non per tutti perché qualcuno gli interessano più, però per la legge ringraziando Dio, sì, più che ringraziando Dio, ringraziando le persone che l'hanno scritta, ok? Quindi tu non te lo porti, in che caso ti può servire portartelo? Cioè è abbastanza delicato, se proprio sei uno che ha veramente bisogno ti reghi dalle forze dell'ordine, dichiari la necessità che hai, sono un gioielliere, una gioiereria in un quartiere malfamato dove ogni giorno ammazzano i gioiellieri, quelli ti diranno scusi ma non puoi cambiare zona, no non posso, ok, allora si apre un percorso per un porto d'armi, chiaro? Qui tutte queste persone che vanno in giro con dei simili oggetti vi possono creare più problemi che vantaggi, d'accordo? Ci sono possibilità nelle quali avere un'arma propria, arma propria è quella cosa che è già costruita per essere un'arma, arma impropria è che ne so, prendo un bastone che ci vado in giro per camminare, come io quando avevo le stampelle tre mesi fa che mi sono operato, non è una cosa che nasce per essere un'arma, d'accordo? Arma propria è una cosa che è stata costruita per essere un'arma, ok? Ci sono possibilità nelle quali l'uso di un'arma ti può essere utile, tant'è che a tante persone glielo danno il porto d'armi, ci sarà una circostanza, se uno però è una persona diciamo normale, cioè 999 su 1000, anche di più veramente, c'è anche più alta la percentuale dell'inutilità, quella persona gli può creare solo un problema per un'arma. Perché faccio queste premesse ogni volta che parliamo di argomenti diricati? Perché siccome adesso parliamo di come usare gli oggetti e come usarli al meglio per fare dolore al nostro aggressore, allora voglio mettervi un po' di freno prima, così equilibriamo le cose, d'accordo? Ok, allora cosa vogliamo fare noi con un oggetto verso un aggressore? Vogliamo provocurargli un dolore tale che lui interrompa, cioè sì, la sua azione contro di noi o contro qualcuno, perché voi sapete bene che io ho i stessi diritti di difendermi e i stessi diritti posso applicarli per difendere un'altra persona, d'accordo? È chiaro che questo poi è sulla carta perché poi andrà approvato, però quella è un'altra lezione, però noi facciamo finta, e non è così, che il giudice sia proprio lì a guardare, noi invece sappiamo che poi dopo ci saranno delle persone che si confronteranno portando delle prove, cioè il giudice sintetizzando, ora l'avvocato mi ucciderà, sintetizzando, il giudice è una persona che non ti conosce, gli interessa la giustizia e non gli interessi tu, ascolta due storie e vede di capire chi ha ragione basandosi su una legge che è stata già scritta. Cioè due storie che potrebbero non avere niente a che vedere con quello che è veramente accaduto, perché poi lì è la bravura dell'avvocato, la menzogna di quell'altro, ok? Ora, perché noi siamo concentrati su qualcosa che faccia più dolore piuttosto che danno? Allora, diciamo per motivi penali, a noi ci deve interessare parimenti quello morale e quello penale, è chiaro che qualcuno ha problemi a far male a qualcuno, altro per motivi suoi morali, dicendo oddio non fare mai male a qualcuno, cioè se mi ruba 100 euro gliele do, qualcun altro si preoccupa della legge, ah se non ci fosse la legge io la ammazzerei pure. Noi dovremmo cercare di capire che la legge, anche se poi ce la raccontano delle volte, che è in Italia, i farabutti eccetera, però diciamo io ancora la devo incontrare, è una legge che è più rotonda e fatta bene come quella italiana. Poi ci sono tanti impicci, impedimenti, burocrazie, che magari gli avvocati non ci dormono la notte, però diciamo a me fa piacere che, cioè se sono quello che è stato derubato ho come istinto il voler ammazzare quello che mi ha rubato, però se sono uno esterno che non ha subito furti e gli raccontano una storia del genere, dico certo quello che ha rubato meriterebbe un sacco di botte, però diciamo che ucciderlo mi sembra una cosa un po' troppo grave. Ok? Ecco, chi ha scritto questa legge, ringraziando Dio, non gli avevano appena rubato una cosa, ho fatto una prepotenza e si è messo a pensare cos'è più importante nella vita. Per fortuna è più importante la salute, la libertà e altre cose prima dei beni materiali. Ok? Perché io voglio procurargli dolore? Perché dentro di me non devo mai coltivare il sentimento della vendetta. Uno dice però vendicarti ti dà una bella soddisfazione. Sì, ti dà una bella soddisfazione, tutti quando ci pizzica la zanzara la vogliamo ammazzare, però io non lo sto dicendo adesso per un motivo morale che sarebbe sufficiente, no? Io dico scusa, quello ti voleva rubare? È brutto, dagli una coltellata. Ok? Non voglio dirtelo per un motivo morale, te lo dico per la tua libertà e la tua felicità. Cioè, se tu a uno che, faccio un esempio, ti sta rubando una bicicletta e non riesci a farlo desistere in altra maniera, l'istinto è gli dai un pugno in bocca e lo metti K.O. Ok? Ma magari gli dai il pugno in bocca, non lo metti K.O. perché non gli hai fatto abbastanza male e paludimena e si ruba pure la bicicletta. O magari fai qualcosa che gli fa sentire molto dolore o desiste o tu riesci a liberarti e a andartene magari con tutta la bicicletta. Cioè noi dovremmo puntare sempre sul se io riesco a fare male a qualcuno come dolore piuttosto che danno lui desisterà. Ci sono addirittura dei casi estremi che però accadono che tu gli fai un grave danno ma lui non sente così tanto dolore e continua comunque la sua azione e comunque ha fatto un grave danno e poi passa pure un guaglio. Ci sono altri casi, ora facciamo un esempio grande, il taser per esempio, quello che dà la scossa che poi se uno è malato di cuore, è debole, ha il pacemaker, lo puoi comunque estendere però a parte questi casi, se tu hai uno e sei un tutore dell'ordine, hai un taser e lo butti giù con una scossa elettrica, alla fine gli fai meno danno che se gli avessi sparato, tanto lui ha desistito il suo furto o la sua azione violenta, sei contento lo stesso. Cosa ci può portare il coltivare un sentimento di odio verso uno che ti sta facendo qualcosa di male a te o all'altro? Ci fa deviare dall'argomento principale, cioè quando uscite di casa la mattina, prestate attenzione, quando uscite di casa la mattina, la vostra priorità è voglio fare del male agli altri o la vostra priorità è non vorrei mi succedesse niente di male? Se la priorità è non vorrei mi succedesse niente di male, quando vieni aggredito, la tua priorità non deve diventare adesso te la faccio pagare, perché prendi una strada totalmente diversa che ti apre prendere le botte, andare all'ospedale, passare dalla parte del torto, tutte quelle cose che le persone si preoccupano. Se la tua priorità è non voglio che mi accada niente di male, se vengo aggredito e sto in difficoltà certo che prendo una bottiglia e te la don testa, perché la mia mentalità è non voglio che mi succeda qualcosa, cerco di difendermi. Nel cercare di difendermi devo sapere che meno mal, meno danno faccio all'altro e più dolore e più è probabile che lui smetta, perché la mia priorità era non voglio che mi succeda niente di brutto. Non è mai voglio far del male ai cattivi, perché quelli che purtroppo tanti, diciamo, non quelli che, tanti di quelli che poi dopo passano un guaio legale per aver fatto male a qualcuno e fatto un danno, sono proprio quelli che per un attimo si sono dimenticati l'obiettivo loro della vita. Cioè il corso si chiama difesa personale, non si chiama giustiziere della notte e vindicatore dei cattivi pomeridiano. Troppo spesso quando si parla di colpire qualcuno specialmente con degli oggetti, ci sono questi grandi errori di fondo che ci creano un danno. Allora uno studia tante cose di difesa personale e poi, io, tanto non cito il nome, in realtà non me lo ricordo, quindi sono un po' sincero, però non lo citerei, io tempo fa, anni fa, volevo anche aprire qua, ho trovato un maestro di uso del coltello molto molto preparato, bravissimo, e lui era pure un allievo di un maestro ancora più forte, quindi era nemmeno il top, però per me era un grande, e lui però insegnava ad andare in giro col coltello, e io ho detto, dico, questo non posso, cioè, questa era una palestra di arti marziali, non dei malviventi, no, ma solo in caso ho bisogno, ok, un oggetto dovevo creare solo un danno, ok, quindi la mentalità è, ho poco tempo, vengo aggredito, devo essere addestrato a prendere qualcosa e usarla come oggetto, in genere, a meno che ci hai a casa già distribuite le tue armi in giro, e spero che voi ce le abbiate in ogni angolo della vostra casa, quando sta in giro, io mi auguro che voi non andate mai con qualche cosa che sia atta a fare male a qualcuno, ok, però che siate in grado di sapere usare un oggetto se lo avete a portata in mano, allora, noi che cosa dobbiamo sviluppare? Come quando, io vi ho detto, ogni tanto, addestratevi, quando non avete niente da fare, non dico di smettere di lavorare e fare gli esercizi che io ti dico, non dico smettere di leggere il tuo libro preferito e fare gli esercizi, ma ci sono delle volte che uno è libero, ok, sono nell'autobus, sono nella metro, sono seduto al bar, sto facendo la fila per portare un documento, ci sono dei momenti in cui uno non sta facendo qualche cosa che gli impegna troppo il cervello, ecco, come sapete, quello che io vi chiedo è ogni tanto, per gioco, tanto non è la realtà, immagina, quindi non è la realtà, dico immagina, che in quella circostanza succeda un'azione violenta, un'aggressione, e tu immagina cosa faresti, è un gioco, ok, io sapete, sto spesso in aereo e quello che mi diverto ogni volta che mi arzo durante il volo, Mario, per andare in bagno, vedo che tutti hanno il cellulare e stanno o facendo un videogioco o guardando un video, io dico, ma fatevi una simulazione mentale di un'aggressione sull'aereo, succedono, cioè, abbiamo il tempo libero, sto nella metro seduto, sto leggendo, ho tre minuti liberi, mi fermo un attimo e dico, ok, cosa farei se quella persona lì si alzasse con un coltello e iniziasse a urlare come un pazzo, magari sono addestrato a sapere quale delle due porte si aprirà per prima, se sarà meglio andare là e andare di qua, magari questo è l'ultimo vagone, non lo so, Mario, lì c'è un anziano, lì c'è una donna incinta, qui c'è un anziano, gli prendo il bastone e mi difendo con quello, è un gioco, tanto non è che lo devi dire a tutti, sai che ho pensato di darti una bastonata, no, quello è uno che sta seduto e non aggredirà nessuno, è un pensiero che hai avuto, si può fare, se tu lo fai ogni tanto, diventa intanto un bel passatempo e poi impari a pensare in un'altra maniera, ogni tanto a fare quelle simulazioni da seduti o nel traffico a quello che vi dico, piano piano la mente diventa più brava, la centesima volta che lo fai lo risolvi in un secondo. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club, ho lavorato nella sicurezza per ben undici anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti.